segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te passiamo dall'altra parte no passiamo da chi le elezioni le ha perse michele santoro allora intanto tre tronconi e tu non hai trovato uno da votare tra tutti e tre né calenda né cinque stelle né pd ma sai calenda non ho mai capito da dove tragga diciamo la convinzione di avere in mano le soluzioni per il paese da quali opere insomma lui abbia tratto questo ministro ferrari sono sconosciuta ministro insomma mezzo ministro ma a parte quello parte quello ha fatto pubbliche relazioni nella sua esistenza diciamo vediamo poi se queste sue soluzioni sono efficaci si è messo con un presidente del consiglio sicuramente non è una di quelle persone che mi fanno sangue staremo a vedere che cosa farà nel futuro per quanto riguarda il pd era la posizione sulla guerra che ha avuto il pd che assolutamente mi rendeva impossibile votarlo anche per l'atteggiamento che hanno avuto nei confronti di chi la pensava come me perché li hanno subito considerati fuori dalla loro famiglia non hanno voluto discutere beh insomma io ho mandato una lettera a letta che è stata sottoscritta da qualche centinaio di migliaia di persone no condiviso sui social non mi ha nemmeno risposto cioè la loro atteggiamento nei confronti di chi presenta delle critiche dei dubbi anche delle perplessità è semplicemente di escludere punto e basta questo è l'ora perché perché viene considerato un passo indietro rispetto al punto dove sono arrivati dal loro punto di vista cioè Enrico Letta dice guardate perché secondo me loro sono diventati un gioco di società cioè praticamente si vedono fra di loro si eleggono fra di loro e quindi tutto quello che sta fuori figuriamoci le periferie non sono in grado nemmeno di metterci piede nelle periferie tutto quello che sta fuori lo considerano una turbolenza non necessaria ovviamente c'è l'esclusione di quelli che sono stati eletti per esempio i sindaci i presidenti di regione su quelli insomma bisogna fare perché il contatto con il territorio lo ha dentro la realtà ma dal punto di vista ideale il resto si dovrebbero dimettere tutti ma faccio un esempio più recente la serracchiani che confonde le alluvioni avvenute nel nel fiuli ma infatti si è candidata nel piemonte una che è stata presidente del fiuli cioè la gaffa del vaglionte che ha posizionato no ma a parte quello ci può stare uno fa un errore ma quello che non ci può stare che se tu sei stato presidente una regione ti devi candidare in quella regione non è che devi andare a cercare l'elezione sicura da un altro però loro sapevano che nessuno dei maggiorenti si è candidato nel maggioritario nessuno di loro ha affrontato ma perché non li votavano per realismo forse però anche perché sapevano che le elezioni erano perse quindi ognuno cercava il posto per essere reale prima parlavate del nazismo del fascismo no il nazismo è nato nelle nelle birerie di monaco cioè hitler andava a parlare in quelle birerie ok e i socialisti andavano a contestare hitler quindi mandavano gli operai che dovevano disturbare quello che stava facendo hitler che succedeva che l'oratore socialista aveva parlato poco prima e nessuno ci aveva capito niente di quello che aveva detto intervenivano i nazisti che parlavano un linguaggio chiaro che andava diretto alla alle orecchie di chi li ascoltava ecco il motivo per cui quelli che erano andato per menarli alla fine battevano le mani cioè questa è la situazione quello che c'è nel PD che non sono in grado di andare in una birreria a parlare cioè proprio non hanno il coraggio di farlo allora io te la rivolto però io te la rovescio se nelle birrerie si aspettano le parole dei nazisti come fa a dirle il PD? se nelle birrerie attendono le parole dei nazisti se nelle birrerie ma questo è un errore che ha visto la prima cosa che ha fatto il nazismo quando è andato al potere ha adottato il piano sul lavoro del partito socialdemocratico cioè quello che i socialdemocratici i socialisti diciamo per essere un attimo più universali nella definizione avevano approntato loro l'hanno applicato l'hanno messo anche in pratica la prima fase del nazismo cioè bisogna stare molto attenti perché questa attenzione ma sta succedendo qualcosa del genere secondo te qua in Italia? beh io non so se la Meloni ha le capacità che aveva Hitler francamente a me non sembra no? quindi diciamo che deve fare parecchia... speriamo pure... eh? speriamolo sì diciamo non è che ci auguriamo da questo punto di vista possiamo essere più tranquilli e più alla nostra portata con lei ce la possiamo fare e non ci spaventa tanto intanto nelle birrerie ci andava Giuseppe Conte e là i voti li prendeva vabbè a parte... perché non hai votato 5 stelle allora? a parte che insomma i voti li hanno presi i 5 stelle ma perché li davamo per morti non sono morti ma di voti ne hanno persi parecchio no? quindi non parecchi diciamo li si dava per scomparsi questa verità bisogna sempre dire però diciamo Conte ha avuto la capacità di rivitalizzare un corpo che sembrava... e loro perché cos'è che non ti convince dei 5 stelle? cos'è che non ti convince dei 5 stelle? perché loro al sud andavano... ma non mi convince che prima hanno votato per mandare le armi poi hanno cambiato idea adesso voglio fare manifestazione per la pace devo aspettare magari diciamo aspetto qualche annetto loro crescono diventano perfino democratici diciamo perché secondo me un partito deve avere due caratteristiche deve sapere da dove viene e dove va e questo per quanto riguarda i 5 stelle non è molto chiaro tant'è vero che ha consentito ad uno come Conte di allearsi prima con Salvini e poi con la sinistra quindi diciamo un'incertezza sulle direzioni gliela dobbiamo attribuire ma deve avere una vita democratica quello che io non vedo nei 5 stelle è ancora una vita democratica il PD ha una vita democratica magari come dici tu di una bolla sa da dove viene qual è il problema non sa dove va diciamo che sono praticamente una democrazia che è come in una sala di rianimazione cioè i 5 che sono stesi nel lettino votano ma tutto il resto intorno di loro non se ne frega niente cioè questa allora quello che vedete inquadrato che conoscete naturalmente è Dario Nardella sindaco di Firenze candidato secondo molti io non so se ancora se ufficialmente o no ma è uno dei candidati più accreditati alla segreteria del PD è in collegamento da Bruxelles sono 90 ormai quasi come i numeri dell'8 lei è uno dei 90 candidati alla no non ci sono io Dario Nardella ha sentito Michele Santoro prima impressione beh la prima impressione è che Michele Santoro è in buona compagnia perché questa volta non hanno votato 19 milioni di italiani e questo è veramente il dato che mi preoccupa più di ogni altro perché poi ognuno pensa a casa propria io vengo dal PD ovviamente devo anche pensare alla sconfitta del mio partito però prima di tutto c'è una sconfitta della democrazia e secondo me non ci siamo fermati abbastanza su questo dato perché quando quasi 20 milioni di aventi diritto su 51 non vanno a votare allora c'è qualcosa veramente di profondo e le riflessioni di Santoro fanno pensare anche a questo c'è un distacco tra i cittadini e la politica che ormai è diventato gigantesco e una responsabilità secondo me anche di questa legge elettorale votata anche dal PD presentata dall'ex PD Rosatelli Rosatelli si chiama Rosatelli Rosato diciamo Rosato l'aveva scritto e Rosatellum è il risultato del è sempre stato meglio che la legge fosse Rosato e lui Rosatellum ma cioè come il fatto è stato detto diciamo fatto stacca ha fatto vincere gli altri perché c'è un elemento in tutto questo che sì c'è disaffezione sì c'è chi non vota ma alla fine l'Italia ha votato e ha vinto la Meloni e Nardella questo PD ha una responsabilità di aver dato la prima presidenza del Consiglio alla fiamma tricolore non è una diciamo una sconfitta di poco conto è una sconfitta che anche nell'immaginario dei vostri elettori pesa e peserà Nardella Santoro e intanto presento anche il benvenuto a Maurizio Belpietro il direttore della verità buonasera Belpietro allora Nardella sì è una sconfitta vera è una sconfitta più politica che numerica perché giustamente Santoro ricordava i milioni di voti che hanno perso i 5 stelle il PD rispetto a 2018 ne ha persi meno però politicamente è una sconfitta vera e propria e bisogna prenderla come tale e questo significa che bisogna ripartire con umiltà dai territori dove almeno la sinistra riesce a fare la sinistra bisogna ripartire stando con le persone cambiando il gruppo dirigente invece di rincorrere autocandidature di segretari perché è inutile cambiare il segretario se non si cambia il partito Michele Santoro lei diceva uno dei motivi fondamentali per cui io non riuscivo a votare il PD era la posizione sulla guerra e Dario Nardella ha credo ospitato anche Zelensky a Firenze insomma è stato uno dei più determinati sostenitori delle ragioni dell'aiuto all'Ucraina Santoro ripeto mi ha colpito di più l'atteggiamento di considerarci noi che la pensavamo in un modo contrario all'invio alle armi fuori dalla famiglia della sinistra cioè quasi dei nemici cioè noi siamo stati considerati in questo modo allora la presa di posizione del PD filo atlantista come mai si era visto in precedenza in questo partito è avvenuta senza riunire nemmeno un caseggiato non dico una sezione non dico un congresso non dico una situazione cioè quando fu invaso dai cararmati Praga in tutta Italia il partito comunista convocò in ogni sezione delle discussioni ribollenti cioè su questo argomento qui invece si è presa una posizione ma nemmeno si è fatta una telefonata a quei 4 o 5 che magari la pensavano diversamente uno snodo epocale che ci può condurre alla fine del mondo perché può avvenire questo è stato trattato come una qualunque vicenda chi non è d'accordo sta con Putin non capisce chi non è d'accordo si fotta chi non è d'accordo si fotta non è dei nostri deve morire ammazzato punto e basta e questo è stato l'atteggiamento no su un tema così drammatico io sono d'accordo sul fatto che non si possono avere atteggiamenti diciamo di disprezzo verso chi non la pensa allo stesso modo e io spero che il nuovo PD sia fino in fondo plurale poi ho la mia idea rispetto a quella di Michele Santoro l'ho sentito più volte riflettere su questo la mia idea è che siamo comunque di fronte ad un paese aggredito ed un paese aggressore questo è un dato di partenza che non dobbiamo mai dimenticare tutti vogliamo la pace ma io credo che raggiungere la pace costringendo il paese aggredito alla resa cioè costringendo gli ucraini ad arrendersi può rappresentare davvero un precedente pericolosissimo e diventerebbe l'affermazione della legge del più forte a livello mondiale quindi penso che la pace vada davvero perseguita e l'Europa non sta facendo abbastanza ripeto è troppo divisa ma bisogna convincere la Russia a tornare sui suoi passi lasciando alla Russia una via d'uscita perché bisogna essere anche pragmatici per raggiungere la pace questo è il mio punto di vista e credo sia giusto rispettare anche quelli degli altri la differenza è una sola la differenza è una sola anche io rispetto chi la pensa nella maniera di nardella sia ben chiaro nessuno di noi ha la verità in tasca però la differenza è questa secondo me non ci può essere un vincitore c'è bisogno uscire da questa situazione senza un vincitore chi persegue la vittoria militare rischia moltissimo e mette a rischio l'esistenza del mondo Maurizio Belpietro prima intervento prego e do il benvenuto anche a Valentina Petrini prego a comodità di Valentina benvenuta Maurizio Belpietro buonasera no no sentivo le parole di Michele Santoro che appunto parlava del fatto che si sia deciso di mandare le armi senza neanche interpellare il Parlamento o senza neanche una discussione di fatto entrando in guerra perché di questo si tratta è inutile che ci giriamo intorno e i risultati anche quello che vediamo le conseguenze dell'invio di questo conflitto di questa partecipazione a questo conflitto le misuriamo con l'aumento del prezzo del gas le bollette però Santoro dimentica una cosa è un precedente importante lui lo conosce molto bene perché andò a bel grado cioè quando D'Alema decise sostanzialmente di mandare gli aerei italiani a sostenere la guerra in Serbia contro contro Milosevic beh non interpellò nessun Parlamento decise di mandare gli aerei e ricordatevi qui ci fu una testimonianza del generale Arpino che disse di aver ricevuto una telefonata dall'allora ministro Mattarella il quale si lamentò perché alcuni militari avevano dichiarato sostanzialmente la situazione in cui si era verificato cioè erano partiti con gli aerei ed erano andati a bombardare Belgrado cioè questo precedente non è un precedente secondario perché si è dimostrato che si può andare in guerra senza neanche chiedere non dico senza neanche riunire un consiglio dei ministri senza neanche convocare un parlamento senza neanche dirlo agli italiani quindi figuratevi se convoca una sezione di partito aggiungo un'ultima cosa cioè è sorprendente che si facciano le manifestazioni oggi dopo che sono passati sette mesi dall'inizio della guerra e perché si va in piazza ora perché prima non c'era la guerra prima non c'erano i morti addirittura abbiamo assistito a bombardamenti Mariupol e così via nessuno se ne è preoccupato perché? perché non bisognava disturbare il governo Draghi questa è la realtà oh il lamello attraverso cui passeremo a Draghi però prego Santoro diciamo tutto quello che vogliamo siamo in piena libertà però io ho definito l'intervento in Serbia un intervento illegale e sono andato sul ponte di Belgrado sotto i bombardamenti facessero una puntata per protestare questo oltre questo sono stato l'unico che ha convocato al teatro Gion un evento che si chiamava pace proibita che è stato seguito da milioni di persone quindi adesso siamo tutti uguali no un momento noi abbiamo protestato da subito le manifestazioni cui aderirà il PD quelle cui aderirà il Movimento 5 Stelle ti fanno pensare che qualcosa ho capito fare una manifestazione sotto l'ambasciata russa questo è quello che chiede Letta come ci hanno spiegato due diciamo molto intelligenti come sono Paolo Mieli e Rico Mentana cioè tra i più intelligenti tra gli italiani che questa manifestazione ha come obiettivo il fatto che i russi si ritirino senza condizioni e che l'Ucraina torni a essere proprietaria diciamo dei suoi territori a voi sembra una cosa praticabile questa voi pensate che effettivamente senza una trattativa senza un tavolo di trattativa si possa ottenere un risultato del genere questo risultato del genere passa attraverso una sconfitta militare totale non di Putin ma della Russia con tutte le conseguenze che questo può comportare rifiutando l'ironia sull'intelligenza di colleghi obiettivamente intelligenti in Nardella è tardi per manifestare dice Belpietro è ipocrita perché la guerra è sempre la stessa da quando è iniziata e Santoro dice pure è inutile Floris intanto vorrei ricordare che proprio a Firenze il 12 marzo abbiamo organizzato in piazza Santa Croce una manifestazione di solidarietà all'Ucraina per la pace bellissima io la ricordo ancora con emozione forse la ricorderete anche voi 20.000 persone c'erano tutte le bandiere di tutti i partiti non c'era quella dei 5 stelle mi è dispiaciuto c'erano tutte le bandiere dei sindacati che fino a poco tempo prima non facevano iniziative insieme e c'era soprattutto la gente comune io credo che si debba tornare a quello spirito senza fare mille piazze diverse c'era Letta? personalmente c'era anche Letta c'era Letta a Fratoianni sì sì era pure Casini c'erano tutti è lì che si vede un paese unito è lì che si vede la forza di un paese cosa c'entra Draghi in questo discorso Michele Santoro? cosa c'entra Draghi? quella è una manifestazione di solidarietà con l'Ucraina ma possiamo continuare soltanto con la solidarietà all'Ucraina che poi ha come corollario l'invio di armi sempre più potenti all'Ucraina vogliamo usare la parola fermare la guerra? se vogliamo usare questo slogan fermare la guerra noi lo dobbiamo rivolgere sia ai russi prima di tutto ai russi ma anche agli ucraini se noi vogliamo continuare a dire che facciamo quello che dicono gli ucraini cioè armi 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 è ipocrita questa posizione di Letta va lì per continuare a dire che gli Stati Uniti stanno facendo tutto perfettamente bene e questo io non lo posso accettare non posso accettare che gli Stati Uniti decidano la politica estera in Europa e che l'Europa stia a guardare è semplice allora io io sono io sono prima europeista che atlantista infatti io sono arrabbiato con la mia Europa vorrei un'Europa più forte e unita seconda cosa è chiaro che qui non è che si deve dire che Zelensky sia il migliore leader democratico del mondo dobbiamo essere realisti ma c'è un paese aggredito bisogna prima di tutto rivolgersi ai russi ma non con una resa incondizionata bisogna intavolare un vero negoziato di pace come ha detto Romano Prodi che non è l'ultimo arrivato Europa Stati Uniti e Cina devono essere determinati a offrire alla Russia una proposta di pace che però deve partire anche dal fatto che l'Ucraina il 23 di febbraio di quest'anno è stata invasa è che sono stati uccisi tanti civili tanti bambini tante donne io le ho viste sono state a Buccia sono stato a Borodianca ho parlato con i sindaci di quei paesini vicino Kiev quindi non possiamo dimenticare come è cominciato questo conflitto dopodiché sono d'accordo sul fatto che che non si possa lasciare l'Ucraina abbandonata da sola ma non si possa costringere la Russia ad una resa incondizionata allora Belpietro e ora arriveremo anche a Valentina Petrini e diciamo però è una posizione anche abbastanza netta e nuova quella di Nardella cos'è cambiato? è cambiato il presidente del consiglio forse è cambiato il contesto Belpietro poi Petrini Santoro no il presidente del consiglio non è ancora cambiato è questione di ora diciamo abbiamo la foto di lui che saluta sta già organizzando delle manifestazioni ma il presidente del consiglio rimane Mario Draghi e andrà anche a Bruxelles a discutere appunto delle conseguenze di questa guerra il 21 mi risulta quindi questo non è cambiato affatto certo è cambiato il contesto c'è stata una sconfitta credo pesante poco fa Nardella diceva abbiamo perso meno rispetto al 2018 sì ma il 2018 aveva perso molto rispetto al 2013 e ancora prima si era perso rispetto alle elezioni precedenti insomma se andiamo a ripercorrere la storia il partito democratico fondato ai tempi quando ancora c'era Prodi a Palazzo Chigi e Veltroni era il primo segretario beh di voti ne aveva lasciati per strada moltissimi però il tema vero qui è che evidentemente gli elettori dopo aver scelto una volta Renzi una volta il Movimento 5 Stelle una volta la Lega e ora la Meloni vogliono una risposta ai loro problemi ma se poi le decisioni passano sopra la testa il Parlamento non è neanche convocato ma come volete che reagisca un elettore la prossima volta sceglierà qualcun altro che cerchi di che comunque venga da fuori evidentemente questo è il vero tema a cui noi abbiamo di fronte e che non riusciamo a risolvere perché se alla fine deve decidere tutto Bruxelles oppure gli Stati Uniti oppure qualsiasi altro il fondo monetario piuttosto che l'Ox beh allora è inutile fare le elezioni però Valentina Petrini queste erano le cose che diceva la Meloni prima di questa campagna elettorale prima che riuscisse a vincere le elezioni ora ne dice tutt'altre e addirittura cerca un ministro dell'economia come abbiamo visto tra dei nomi che sono il contrario dello scenario che dipingeva Belpietro sì poi insomma invece il nome che circola per il ministro dell'energia è abbastanza discutibile speriamo che non sia quello perché è colui che a capo dell'ENI ci ha reso dipendenti dalla Russia ma sarà sicuramente una fake news giornalistica però insomma la Meloni in realtà sta agendo assolutamente nel solco di quello che ci si aspettava lo ha detto prima Ojas non ha festeggiato ha molto i piedi saldi per terra adesso sarà al banco di prova con l'Ungheria perché bisognerà vedere come si posizionerà rispetto al tema insomma del referendum però io vorrei dire una cosa Nardella prima ha detto una parola che se un paio di mesi fa avesse detto un pacifista sarebbe stato messo all'angolo e cioè ha detto offrire una via di uscita a Putin è cambiato sicuramente il clima però diciamo va riconosciuto che questa avrà e sono cambiate anche le parole Santoro un commento su questo e quello che dicevamo noi qualche mese fa ma era assolutamente offrire una via di uscita era assolutamente improponibile diciamo poter porre il tema che cioè aprire un tavolo di trattative significasse oggettivamente offrire anche una via di uscita a Putin ma c'è un problema in più in questo perché lei giustamente dice noi dobbiamo essere sempre più autonomi a parte che questa autonomia che stiamo conquistando adesso è pagata a carissimo prezzo con ritorno al carbone pagamento di risorse energetiche dieci volte cento volte i prezzi che avremmo pagato alla Russia ma io personalmente penso che la Russia faccia parte dell'Europa noi dobbiamo immaginare un mondo nel dopoguerra dove con i russi continuiamo ad avere un rapporto cioè noi non possiamo pensare che regaliamo la Russia dietro una cortina di ferro e tutte le risorse che ha la Russia le regaliamo alla Cina cioè questa è una fornita però io poi vi chiedo di fare un passaggio il tavolo della pace di cui finalmente si parla deve parlare di che cosa deve essere il mondo dopo questa guerra poi ci rimboccheremo tutti quanti le maniche per dare una mano all'Ucraina a ricostruirsi e dobbiamo difendere la sua integrità territoriale però io poi voglio trattare con voi il tema se il PD paga la partecipazione al governo Draghi e se è uno scotto che si paga alla responsabilità del PD che tiene il paese in mano nella crisi oppure all'irresponsabilità di gente che non lo so una campagna elettorale su Draghi senza averci Draghi come candidato se avessero avuto Draghi come candidato magari prendevano qualche voto in più ma siccome Letta ma scusa tu Letta Bonaccini questi qua li vedi? no secondo te hanno il carisma per poter essere dei leader? non ce l'hanno perché? cos'è il carisma di un leader? ma cos'è il carisma di un leader? è uno che va e può parlare diciamo può parlare alla gente può parlare un linguaggio chiaro che tutti possono capire avere fiducia in lui e mettersi nelle mani di questa persona che conduce un partito che a sua volta dovrebbe essere fatto non in maniera nepotistica come è fatto il PD perché il PD è fatto di mogli di mariti di nipoti di figli capisci? questa cosa qui è insopportabile questo succede quando un partito si chiude in se stesso e quando non trovano posto nel partito lo trovano nel cinema nella cosa è una roba che deve finire la casta è un concetto che vale per la sinistra purtroppo e drammaticamente tanto alla destra c'ha i magnati quelli con i soldi eccetera il concetto di casta li tocca meno nella sinistra il concetto di casta è molto doloroso è molto presente ma il mondo sarebbe stato meglio o peggio se il PD non si fosse fatto carico negli ultimi diciamo dalla caduta di Berlusconi in poi da quando è servito Mario Monti? ma si nascondono dietro i tecnici perché non hanno una visione non posseggono una visione come non ce l'ha la Meloni la mia profezia è questa neanche lei ce l'ha questa visione e quindi vorrebbe una serie di tecnici che le stanno dicendo di no perché la patata è bollente dice spicciata tu ma lei si vorrebbe nascondere dietro i tecnici perché non sa dove andare si patrioto dia patria famiglia sono tutte cose facili capisci? ma quando esci da questo e devi governare un paese fare le scelte energetiche decidere come fare ad alzare i salari come fare ad alzare le pensioni le formulette non bastano più serve carisma e visione Nardella partito che si è ridotto a una cassa che si spartisce i posti l'un l'altro e che quando perde le elezioni anzi quando sa di perderle cerca per ognuno dei rappresentanti il collegio che salva almeno lui solo lui allora intanto io credo che si debbano rimettere le preferenze così passa chi ha il consenso vero sul territorio si dice che le preferenze portano corruzione allora visto che da un sacco di anni dal Porcellum sono state tolte dovremmo essere il paese più onesto del mondo e non è così nelle città con i sindaci i consigli comunali ci sono le preferenze se cambiamo la legge elettorale allora passano in Parlamento le persone che hanno il consenso e hanno il sostegno dei cittadini seconda cosa io credo che sia ingiusto usare l'ETTA come unico caprio spiatorio e prendersela solo con il segretario perché altrimenti basterebbe cambiare il segretario e allora al PD va tutto bene c'è un problema di gruppo dirigente che secondo me deve essere completamente rinnovato e anche di metodo di lavoro interno perché è giusto che il PD recuperi credibilità credibilità quella che per esempio noi sindaci nelle città faticosamente riusciamo ad avere terza e ultima cosa vorrei essere chiaro su Ucraina e Russia io vorrei essere libero di esprimere solidarietà al popolo ucraino che è devastato senza esprimere odio ideologico alla Russia io voglio aiutare l'Ucraina ma voglio anche distinguere tra Putin e il popolo russo perché questa non è una guerra tra il popolo russo e quello ucraino è la guerra di un governo scellerato contro un popolo non voglio entrare in questa definizione troppo semplicistica della guerra tra la Russia e l'Ucraina che secondo me è anche una guerra tra due nazionalismi sia ben chiaro uno di tipo imperiale e un altro di tipo chiamamolo locale che è quello di Zelensky non è la guerra tra due popoli ci sono due nazionalismi che si stanno combattendo e c'è qualcuno che si è introdotto in questa guerra dall'esterno e che la sta anche pilotando da lontano dal mio punto di vista fermo restando le responsabilità di Putin e questo errore che lui ha compiuto macchiandosi le mani di sangue nessuno gli toglierà quel sangue dalle mani va bene ma lui è entrato pensando di non combattere e poi invece ha fatto un attecito pronta a combattere